Vaccinazioni a singhiozzo, didattica a distanza con tutte le problematiche che ci sono. Non è un momento semplice per la scuola nella nostra regione Trotta. Voi avete con gli altri sindacati fatto anche un comunicato per denunciare alcune cose che non vanno. Quali in particolare? Nella scuola praticamente allo stato attuale non funziona niente. La campagna vaccinale ha avuto dei grossi problemi, ha avuto inizio il 20 febbraio, subito è cessata, è stata ripresa sabato e domenica, ma non esistono ad oggi dei dati sulla campagna e sulle date precise. Il problema è che non si può pensare di ottenere una risposta dalle scuole e dai docenti, dal personale ATA, significativa, in quanto non abbiamo mascherine FFP2 per i docenti. L'ordinanza numero 11 di Marsilio ha previsto che devono essere chiuse tutte le scuole di tutta la regione, tranne quelle dell'infanzia, dove i bambini non portano le mascherine. Il problema è serio. Non ci hanno comunicato mai i dati sui contagi all'interno delle scuole. Non ci hanno comunicato quello che ha deciso il report del Comitato Tecnico Scientifico regionale. Navichiamo a vista praticamente, non sappiamo come uscirne a questo punto. La didattica a distanza? Allora, precisiamo che le zone rosse sono Pescara e Chieti, le province di Pescara e Chieti. Quindi per la nazione, per lo Stato italiano, noi siamo arancioni. Quindi non ci sono nei vantaggi delle zone rosse, prendendoci però tutti gli oneri consecutivi. Di conseguenza la didattica a distanza crea problemi per la gente che sta in smart working, per chi ha due o tre figli, per i docenti che sono collegati dalla mattina, praticamente fino alla sera, online. Non se ne può uscire così. La soluzione sarebbe chiudere le scuole con la didattica a distanza, effettuare un piano vaccinale degno di tale nome, dopodiché riaprire in sicurezza. Voi vi rivolgete alla regione in particolare? Noi ci rivolgiamo alla regione, all'ufficio scolastico regionale, all'ufficio scolastico provinciale. Dobbiamo uscirne in sicurezza tutti. Non dimentichiamo che ci sono le mense nelle scuole, ci sono i lavoratori precari che non risiedono in Abruzzo e quindi non hanno diritto alla campagna vaccinale. Insomma, è un caos.